Buon 25 aprile con la Tg6, in primo piano parliamo di sanità, la previsione del disavanzo 2021, il disavanzo 2021 bacchetta i numeri della sanità regionale per cui ci sarebbe un disavanzo di circa 107 milioni di euro. Pronta la replica dell'assessore regionale alla sanità Veri, secondo cui i contenuti del tavolo di monitoraggio ministeriale sono già superati e il conseguente disavanzo già ripianato. Il servizio è di Stefano Recanati. Si riaccende lo scontro politico tra maggioranza e opposizione per quanto riguarda la sanità abruzzese. Il rapido botta e risposta tra l'ex assessore alla sanità della loro aggiunta ad Alfonso Silvio Paolucci e l'attuale in quota Lega Nicoletta Veri è arrivato a margine della pubblicazione dei contenuti del verbale post-riunione del 13 dicembre. Nel documento si parla di un disavanzo di gestione della sanità abruzzese di 107 milioni di euro nel 2021, definito dal tavolo di monitoraggio ministeriale non coerente con il piano di rientro né con le risorse programmate. Le forti preoccupazioni hanno portato l'ente preposto ai controlli a raccomandare alla regione il presidio dell'andamento dei costi e dei ricavi al fine di assicurare gli equilibri. Ma non basta. La regione, sentenza il tavolo, non sta programmando una strategia contabile per ridurre questo ingente deficit. Con riferimento alla bozza di programma operativo 2019-2021, si rileva, prendendone atto, che il documento inviato alla regione non risulta coerente con il recupero strutturale dell'incente disavanzo che si starebbe profilando sull'anno 2021. In tali termini si raccomanda la trasmissione della bozza di programma operativo 2022-2024 anche alla luce delle precedenti richieste dei tavoli, al fine di individuare tempestivamente le misure da porre in essere per la programmazione del prossimo triennio. Analizzando il documento, a preoccupare non c'è solo il disavanzo. Infatti, gli abruzzesi che vanno a curarsi in ospedali e cliniche extra-regionali, ovvero la mobilità passiva, è arrivata ad un saldo negativo di 100 milioni di euro, il 73% del quale definita evitabile. E poi viene sottolineata la mancata consegna del piano di riordine della rete ospedaliera, della nuova versione del programma operativo Covid, la mancata adozione del documento linee di indirizzo per il riordino della rete territoriale, anche alla luce degli obiettivi di potenziamento dell'offerta territoriale previsti dal PNRR. Tutto questo sarà approfondito in sede di conferenza stampa da parte del partito DEM mercoledì 27 a Pescara. Intanto, però, è subito arrivata la replica dell'assessore regionale Veri, che afferma come i dati contenuti nel verbale del tavolo di monitoraggio dello scorso 13 dicembre sono superati e che il documento fa riferimento a dati previsionali e non a consuntivo, assicurando che sono stati adottati i necessari correttivi, i quali hanno permesso di chiudere l'esercizio 2021 senza perdite. E' pronta l'ordinanza del commissario Lenini per stabilire un prezziario unico sui materiali dell'edilizia e per aumentare i contributi statali ad abitazioni private e imprese. Sul testo che dovrebbe dare nuova linfa alla ricostruzione delle aree terremotate, sarebbero già d'accordo Lazio, Umbria e Abruzzo, non convinte invece le marche. Vediamo. L'ordinamento prevede l'adozione di un prezziario unico per il cratere, tenendo conto del rincaro dei materiali. Negli ultimi mesi, infatti, il costo dei materiali e del loro trasporto è aumentato mediamente del 40%, emblematico il prezzo del bitume che è cresciuto di oltre il 75%. L'ordinanza prevederebbe anche maggiori fondi statali per le aree terremotate. Il contributo per la ricostruzione degli immobili aumenterebbe del 20% per le residenze private e del 25% per i siti produttivi, con un effetto retroattivo, coinvolgendo anche le spese effettuate dai proprietari a partire da luglio 2021. Si calcola che ciò debba produrre un beneficio di 4 miliardi di euro nell'arco di una decina di anni, una spinta ai lavori sui 40.000 immobili ancora da riqualificare, dei 27 miliardi stimati per il costo della ricostruzione, finora ne sono stati investiti solo 7. Sulla formula proposta da Lenini sarebbero già d'accordo Abruzzo, Lazio e Umbria. La regione Marche, dove si trovano tre quinti delle infrastrutture danneggiate, non sarebbe ancora convinta, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta nei prossimi giorni. In attesa di sviluppi, la cabina ha approvato due bandi per gli incentivi destinati alle imprese, previsti dal Fondo Complementare Aree Sisma 2009-2016. Si tratta di fondi aggiuntivi rispetto a quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Nazionale. A disposizione 180 milioni di euro, primi bandi di un pacchetto che ammonta nel complesso a oltre 600 milioni, volti allo sviluppo industriale, turistico e ambientale delle aree terremotate. Un ciclista di 51 anni, Pavel Talaga, di origine polacca, è morto durante una gara ieri pomeriggio. La tragedia è avvenuta tra Roccapia e Roccaraso, nei pressi della Galleria alla Portella, mentre stava effettuando una gara individuale di 775 km, la Ultra Cycling, che attraversa il centro Italia. L'uomo è stato investito prima da un'auto e poi da un ciclista che transitava nella stessa zona. Immediati i soccorsi del servizio 118, allertato dei presenti, ma purtroppo per il ciclista non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. La Salma resta a disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona, che ha disposto la ricognizione cadaverica e sta valutando la necessità di ricorrere all'esame autoptico. I rilievi sono stati compiuti dalla Polizia Stradale di Sulmona, che si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica della sinistro per accertare eventuali responsabilità. Il ciclista stava partecipando alla RAI 775, una sorta di doppia Tirreno Adriatico, in corso in questi giorni, partendo da Silvi Marina. La gara ciclistica attraversa quattro regioni, toccando due volte il mare Adriatico e il mare Tirreno, per un totale di 10.000 metri di dislivello. Pavel Talaga era l'unico partecipante nella categoria over 50. Apriamo ora la pagina dedicata alla festa della liberazione. Tre giorni a Chieti per celebrare il 25 aprile. Si concluderanno oggi alle 19 con la lettura del libro Solitudine di Beppe Fenoglio al Marucino. E a seguire degustazione a cura di Slow Food. Intanto a Samane si è svolta la cerimonia istituzionale del 77esimo anniversario della liberazione. La mattinata di celebrazioni per la festa della liberazione a Chieti ha fatto tappa nei luoghi simbolo della memoria. Una corona di alloro è stata deposta in largo cavallerizza, in largo martiri della libertà, davanti alla lapide memoria delle vittime teatine e al monumento ai caduti della villa comunale, dove si è svolta la celebrazione per le vittime della resistenza con l'alza bandiera. Un 25 aprile che quest'anno inevitabilmente ci porta a fare dei parallelismi con l'Ucraina, che oggi combatte contro un invasore. Noi parliamo di resistenza, parliamo di memoria, affinché gli orrori della guerra, le ingiustizie, tutto quello che la guerra comporta non accadano, possano non accadere più. Eppure intorno a noi questa esperienza tragica ciclicamente la riviviamo. Questo non significa che i popoli e soprattutto i giovani ricordino quello che è stato e che evitino ulteriori situazioni tragiche come quelle che stiamo vivendo. Quindi un appello alla resistenza, un appello alla memoria, soprattutto per i giovani, affinché alcune cose non capitino più. Il 25 aprile è stato un giorno importante per la nostra storia, che ci ha consegnato un momento di pace. Le generazioni che ci hanno preceduto, a cominciare dai miei nonni, i miei genitori, hanno voluto per noi la pace. Io vorrei così altrettanto per i miei figli, per i miei nipoti, ma è il desiderio mio, non è il desiderio del prefetto, ovviamente, è il desiderio del comune cittadino. Vorremmo consegnare un mondo di pace. Questa giornata deve far riflettere. Quest'anno Chieti ha dedicato tre giorni alle celebrazioni del 25 aprile, l'inizio di un percorso della memoria che si ripeterà negli anni a seguire. La nostra città quest'anno ha dimostrato non solo l'appartenenza al popolo italiano, ma ha dimostrato il grosso attaccamento agli ideali di libertà e questo non può farmi altro che piacere. Sono stati gli studenti delle scuole, i protagonisti della cerimonia per la liberazione dal nazifascismo, questa mattina a Pescara, in Piazza Garibaldi. Paolo Renzetti. Celebrata anche a Pescara la giornata del 25 aprile del 77esimo anniversario dalla liberazione, in Piazza Garibaldi si sono ritrovate questa mattina alle 10 le massime autorità civili e militari per la celebrazione solenne. Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, dopo aver passato i rassegni rappresentanti dei corpi schierati, dopo l'alza a bandiera affiancato dal sindaco Carlo Masci e dal vicepresidente della provincia Giorgio De Luca, ha deposto una corona da loro ai piedi del monumento ai caduti militari e civili di tutte le guerre. La novità di quest'anno, della festa del 25 aprile, qui a Pescara è la presenza degli studenti, ma una presenza non meramente passiva o ricettiva, ma una presenza attiva. Ho voluto fortemente che gli studenti si rendessero protagonisti di un messaggio. Non avevo sentito i loro discorsi, ne li avevo letti, devo dire che sono stati bravissimi e questo ci fa sperare per il futuro. Quello di oggi, come ha ricordato il presidente Mattarella, assume un significato particolare per ricordarci che i valori della libertà, dell'indipendenza, della lotta contro ogni totalitarismo, sono i valori fondativi della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Dobbiamo essere bravi a preservarli quotidianamente e, come dicevo, poc'anzi è fondamentale che questi valori si rinnovino ogni giorno nelle giovani generazioni. Allora la loro presenza, non come normalmente avviene nelle cerimonie istituzionali, veramente passiva, ma da protagonisti attivi, penso che sia l'aspetto da segnalare. Il sindaco Carlo Masci ha ricordato come il messaggio di pace oggi sia più che mai attuale. La libertà è un concetto che noi pensiamo di avere acquisito per sempre, invece ogni volta ci rendiamo conto che non è così. La libertà è sempre messa in discussione e dobbiamo difenderla ogni volta, come i nostri nonni, i nostri padri l'hanno difesa nel 1945 e come oggi la stanno difendendo i combattenti ucraini che combattono per la loro terra. E come dovremo fare ogni volta tutti quanti noi e chiunque tenga la propria terra, la libertà, la democrazia, la giustizia, la legalità, in ogni momento della nostra vita. Non soltanto in queste ricorrenze, ma ogni giorno comportarci in maniera tale che la libertà veramente sia un afflato che prenda tutti quanti noi in ogni momento. Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza degli studenti del liceo classico Gabriele D'Annunzio, del liceo scientifico Galileo Galilei, dell'istituto tecnico Tito Acerbo e dell'istituto alberghiero De Cecco. Nel secondo anniversario dall'uscita dalla zona rossa di una delle zone maggiormente colpite dalla pandemia nella prima fase, ovvero Caldari, una frazione di Ortona, ebbene Caldari ha voluto ribadire la sua volontà di guardare al futuro presentando il premio Caldari e Viva. In attesa della prima edizione, che si svolgerà il prossimo anno, è stato premiato il vice direttore della Fintum Post, Alessandro De Angelis. Numero zero per il premio giornalistico nazionale, che in realtà quest'anno debutta solamente, ma dal prossimo anno ci sarà una giuria e quindi partirà in grande stile. Caldari è Viva, perché? Nasce per dare un segnale di ripartenza e di vitalità a questa piccola contrada, che è piccola sì, ma è grande perché è grande di valori e soprattutto è grande perché ha un territorio ricchissimo a vocazione vitivinicola importante. Quindi è un grande polo vitivinicolo e noi come azienda da sempre insistiamo su questo territorio, da sempre azienda vicina al territorio e con la mia famiglia abbiamo deciso che questo segnale fortissimo, appunto il 22 aprile di due anni fa, quando suonarono le campane per dire al mondo e comunicare che si voleva ripartire, ecco, con questo noi vogliamo dare un aiuto, un segnale tangibile per poter dare spinta al nostro territorio. Due anni fa, il 22 aprile 2020, Caldari, una frazione di Ortona, usciva da uno dei suoi periodi più difficili Terminava la zona rossa, che era stata imposta a causa dell'alto numero di contagi da Covid Una situazione in cui eravamo tutti impreparati dalle istituzioni fino all'ultimo cittadino però tutti ci siamo uniti, ci siamo stretti l'uno con l'altro a cominciare dalle istituzioni perché uno dei ricordi più belli che porterò è proprio questo, cioè l'unione che c'è stata, la sinergia tra le istituzioni perché eravamo tutti impreparati, mai nessuno aveva vissuto una situazione del genere e la città di Ortona, in particolare Caldari, ha vissuto in prima persona una zona rossa e quindi ricordo molto bene tutte le problematiche annesse e connesse a quella situazione di restrizioni Oggi, a testimonianza che Caldari ha rialzato la testa e guarda al futuro, nasce il premio giornalistico Caldari è viva promossa dalla Proloco di Caldari e da Nicola Dauria, imprenditore vitivinicolo che crede nella forza della sua terra Per il debutto del premio, in attesa dell'edizione 2023, che avrà una giuria tecnica patrocinata dall'Ordine dei giornalisti l'edizione numero zero del premio Caldari è viva, è stato assegnato al giornalista Alessandro De Angelis vice direttore dell'Huffington Post e riconoscimenti sono stati assegnati ai giornalisti della stampa regionale Quanto è importante raccontare il giornalismo d'emergenza? Il giornalismo di emergenza è fondamentale, queste terre, io sono aquilano, si vide già ridosso del terremoto è la cronaca, i fatti in presa diretta e guarda, nell'era dei social ci si è domandati che cosa serve il giornalismo perché in fondo con i social tu riprendi e mandi delle immagini invece io credo che proprio nell'emergenza e nel racconto si vede l'insostituibilità diciamo della mediazione giornalistica i fatti è vero che parlano da soli ma non sempre i fatti parlano da soli cioè quando tu vedi appunto Buca dicevamo prima, piuttosto che Mariupol piuttosto che le devastazioni che stiamo vedendo in questi giorni il racconto spiega e il racconto è una verifica della notizia Lo sport col calcio di Serie C, il pareggio di sabato contro Limolese regala, relega il Pescara al quinto posto in classifica e alla necessità di partire dal primo turno playoff All'Adriatico Cornacchia arriverà la Carrarese il presidente di Biancazzurro Sebastiani al termine della gara con il Rosso Blu esprime un pizzico di delusione da cancellare già da domenica quando non saranno ammessi calcoli o errori Sì, ci costringe a scendere in campo però poi alla fine magari non fermarsi può essere anche un aspetto positivo guardiamola dal punto di vista positivo sicuramente oggi c'è delusione perché dal pensare a possibile terzo posto arrivare quinti con una partita così sicuramente c'è un po' di delusione nel primo tempo abbiamo fatto non bene nel secondo tempo abbiamo avuto la fortuna la bravura di andare in vantaggio subito si poteva sicuramente capitalizzare meglio alcune palle e golle che abbiamo avuto non l'abbiamo fatto e quindi poi c'è la beffa del pareggio Si aspettava un Pescara diverso oggi presidente insomma l'obiettivo era quello di cercare di agguantare il terzo posto ma almeno di mantenere il quarto invece non è andata come si pensava Sì, anche se purtroppo quando giochi queste partite come ho sempre detto in playoff alla fine te le devi giocare le partite quindi non devi fare calcoli e chiunque arriva non deve fare calcoli insieme a te per cui forse si vedrà magari più gioco meno perdite di tempo meno ostruzionismi di qualsiasi tipo che purtroppo in questo campionato si vedono ogni partita che qualche squadra che ti è dietro se riesce ad ottenere qualcosa poi la partita diventa di 5 minuti Deluso da qualcuno in particolare presidente? No, 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 ma no perché voglio dire abbiamo fatto la nostra partita nel secondo tempo abbiamo fatto la nostra partita potevamo fare almeno altri due gol non li abbiamo fatti e purtroppo ci sta che puoi sbagliare così come magari in qualche partita hai fatto degli Eurogoal oggi abbiamo sbagliato l'impossibile Con la Carrarese però domenica prossima non si potrà sbagliare assolutamente? Nel modo più assoluto se vuoi andare avanti non puoi sbagliare, è chiaro dispiace che, ripeto dal possibile terzo posto arrivi quinto però questo è il campionato e quindi giochiamoci da fine alla fine Bisognerà ora ricaricare le pile c'è una settimana di tempo insomma l'auspicio è di vedere una squadra diversa contro i Toscani Ma a me la squadra del secondo tempo non è dispiaciuta nel primo tempo è chiaro che giocare contro una squadra che in undici si mette dietro la linea della palla non è mai facile trovare gli spazi devi trovare una giocata magari un calcio da fermo una punizione se hai la fortuna la bravura di capitalizzare queste situazioni magari poi gli altri si devono aprire devono giocare per cercare di recuperare tu hai qualità per fare male agli avversari però se poi dopo quando arrivi là davanti non fai gol diventa un problema e dopo le dichiarazioni di sabato rilasciate in conferenza stampa da Davide Ciaccia arriva la durissima replica degli amministratori societari che bollano le parole dell'ex patron attraverso un comunicato ufficiale diramato sul sito web del club che state vedendo in questo momento l'amministratore giudiziario si legge nell'ambito del procedimento 45 del 2021 misure di prevenzione del Tribunale di Roma e gli amministratori della Teramo Calcio SRL in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dal dottor Davide Ciaccia nella giornata di sabato 23 aprile 2022 precisano quanto segue che le dichiarazioni rese da Ciaccia sono autonome affermazioni non avendo titolo né poteri di rappresentanza né tantomeno può lo Stato esercitare la direzione e il coordinamento della Teramo Calcio sottoposta a sequestro di prevenzione che l'amministrazione giudiziaria su impulso dell'organo amministrativo non ha ancora sciolto le riserve circa i presupposti e le condizioni per assicurare un'adeguata continuità aziendale del Teramo Calcio ed è stata rimessa ogni decisione in merito all'autorità giudiziaria competente anche in ordine ad altre questioni rilevanti e che per quanto a conoscenza dell'organo amministrativo non sussiste alcuna manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione della partecipazione di controllo della Teramo Calcio SRL che ove vi sarà cosa del tutto auspicabile andrà condotta nelle sedi istituzionali a ciò deputate e con gli organi del procedimento sotto la direzione del giudice delegato e del Tribunale di Roma misure di prevenzione è una missiva firmata dall'amministratore giudiziario e dagli amministratori della Teramo Calcio SRL andiamo in Serie D successo per il Castelnuovo a Nereto nell'unico impegno tra abruzzesi della trentesima giornata di Serie D la rete di Decidio consente agli uomini di Guido Di Fabio di continuare a sperare nella salvezza diretta senza passare dai play-out il derby del comunale di Nereto va come da pronostico al Castelnuovo che con qualche sofferenza di troppo nel finale conquista tre punti di platino in chiave salvezza diretta senza strafare i neroverdi hanno ottenuto il massimo risultato che permette ora di guardare al finale di campionato con meno patemi per la squadra di Del Grosso la consueta generosità non è bastata per evitare l'ennesimo K.O. stagionale nel tiepido pomeriggio Vibratiano si parte con gli ospiti subito propositivi Bubalo infatti al nono approfitta di una indecisione di Diglio e compagni e con un pallonetto va a sfiorare l'incrocio con la palla che termina di pochissimo fuori si gioca senza tatticismi di sorta con la formazione ospite costantemente in avanti alla ricerca del vantaggio al ventesimo sembra fatta per il Castelnuovo con Bubalo che in aria sbaglia però il dosaggio del pallonetto mandando la palla appena sopra la traversa è un monologo dei neroverdi che però rischiano al ventinovesimo quando Montano prova il gol della domenica con Natale che è attento e dice no al trentunesimo il Castelnuovo però trova il vantaggio con un tocco felpato di Digidio che su cross di Sparvoli non sbaglia segnando il gol del 0-1 con cui si chiude il primo tempo nella ripresa al tredicesimo angolo tagliato di Cipriani per i padroni di casa con il portiere Natale che allontana il pallone con i pugni ospiti in controllo del vantaggio di misura con un nerreto volenteroso ma spuntato il derby resta così tutt'altro che entusiasmante con le emozioni che arrivano con il contagocce le sostituzioni operate da Del Grosso e da Di Fabio non cambiano la sostanza del match del comunale al trentanovesimo Prestiani per il Castelnuovo se ne va sulla sinistra e crossa centro area per Bubalo anticipato in maniera millimetrica da Ferrini che mette il pallone in calcio d'angolo al trentanovesimo la formazione ospite resta in dieci uomini per il secondo giallo al portiere Natale che tocca il pallone con la mano fuori aria ingenuità dell'estremo difensore neroverde con Di Fabio che manda così in campo Scardillo al posto di Bubalo Antonelli si incarica della battuta della punizione con il neoentrato secondo portiere del Castelnuovo che para senza problemi finale di partita vivace con i padroni di casa che spingono non riuscendo però a trovare il pareggio finisce con la vittoria del Castelnuovo che guarda ora la salvezza con maggiore fiducia soffre più del dovuto ma alla fine la vastese passa sul campo dell'Aurora Alto Casertano fanalino di coda per l'uomini di Dadderio tre punti che consentono di alimentare possibilità concrete di disputa dei playoff vastese brutta e distratta ma alla fine torna da Pietramelara con in tasca i tre punti un successo che consente alla società di raggiungere la salvezza e poter continuare a cullare sogni i playoff con diallo infortunato e Tancredi febbricitante mister Dadderio opta per altobelli come esterno di difesa coppia centrale formata da Allegra e di Filippo alto casertano imbottito di under e già retrocesso in eccellenza prova a chiudere con onore la sua stagione in quarta serie per la vastese è occasione da non perdere questa per continuare a cullare sogni playoff e lo sa anche Cristian Stivaletta che alla prima occasione in area di rigore con il destro mette alle spalle di Vitiello terza rete per il numero dieci che mette la gara in discesa evidenti i limiti tecnici dei campani che però con la forza della volontà riescono a farsi vedere con l'interessante classe 2001 Romeo che crea qualche apprezzione ad altobelli sulla destra e poi con Amabile che prova dalla distanza ma il tiro termina alto ragonesi al piccolo trotto che potrebbero a rota D'Addario non contento dell'atteggiamento dei suoi avuto nella prima frazione cambia e dall'inizio di secondo tempo inserisce Sansone per Pierpaoli i pericoli fiutati dal tecnico bianco-rosso diventano improvvisamente realtà quando un pallone perso al centrocampo apre un'autostrada all'Aurora che va fino in fondo con Romeo che di destro mette alle spalle di un incerto di Rienzo se starete in stagione per lui va stese ancora negli spogliatoi rischia di andare addirittura sotto qualche istante più tardi quando Palumbo si inserisce pericolosamente in aria ma Cecca ci sbroglia la matassa Ficara prova a suonare la sveglia servendo in aria un pallone invitante che Stivaletta prima di lasciare il campo ad Alonzi non riesce a spingere in rete il maggior tasso tecnico-offensivo però premia i bianco-rossi che trovano il nuovo vantaggio con Altobelli bravo a chiudere con i tempi giusti sul secondo palo e mettere di prima intenzione in rete se avanti le cose vanno discretamente la difesa ragonese fa acqua da tutte le parti amabile in avanti viene messo giù in aria da Allegra con Caggiari di Cagliari ad indicare il dischetto esecuzione affida dal capitano Nicola Mancino che spiazza di Rienz con il cucchiaio per il suo terzo centro in questo campionato la vastese si aggrappa alla qualità dei singoli ed è proprio una giocata di Ficara il migliore in campo che si beve la difesa regala da Lonzi un pallone solo da spingere in rete i titoli di coda sul match calano definitivamente al cinquantesimo quando Scafetta ne ho entrato con un cost to cost sulla destra taglia in due la difesa e con il piatto mette in rete il gol del 2 a 4 finale ora la pausa e alla ripresa c'è il Fiuggi scendiamo in eccellenza scoffitta sul campo della Torrese è festa rinviata ancora per l'Avezzano battuto per 2 a 0 con questo risultato per i marsicani sfuma ancora la matematica promozione in serie D e ne approfittano Giulianova e l'Aquila per accorciare per l'undici di Torri altre opportunità domenica prossima al De Marsi contro la Bacigalupo Ania Cantagalli L'Avezzano fallisce il secondo match point per chiudere i conti in ottica serie D con la Torrese che ha la meglio per 2 a 0 rimandando ai discorsi promozione della squadra di Torti alle ultime due giornate di campionato i biancoverdi ritrovano Dos Santos e Laguz rispetto al match contro il Penne ma l'approccio è simile rispetto alla gara di recupero la Torrese conferma le buone qualità che valgono i primissimi posti della classifica mentre i biancoverdi provano ad affidarsi soprattutto all'estro di Bisegna numero 10 che inizia la sagra dei tiri dalla distanza dopo 2 minuti ne seguiranno altri 2 e come il primo tentativo saranno in fotocopia per destinazione lontana rispetto allo specchio di porta lo stesso Bisegna protesta al settimo quando da caccia di punizione vorrebbe un tocco di mano della barriera con il direttore di gara che però non è dello stesso avviso i padroni di casa testano l'attenzione di Di Girolamo con una conclusione di festa che l'estremo blocca senza problemi conclusioni di Bisegna a parte al 27esimo Dos Santos prova in girata in area a piazzare il pallone alle spalle di Abate con palla che finisce anche in questo caso alta alla mezz'ora così la torrese passa in vantaggio Bup porta il pallone da una metà campo all'altra lascia Gentile che è bravo a battere Di Girolamo per il vantaggio della formazione di Cristofari vantaggio che non placa i padroni di casa che con un tiro cross di Mosca al 35esimo sfiorano anche il raddoppio il presidente Paris si abbandona la sua postazione ed inizia la ripresa ai piedi della tribuna per provare ad invogliare i suoi a cambiare il ritmo Besana quasi in risposta si divora dopo tre minuti una buona chance con Di Gianfelice che ci abbatta sugli sviluppi da buona posizione qualche minuto dopo nuove proteste da parte di Bisegna che si vede murato il tiro dopo il suggerimento di Dos Santos Torti chiama fuori pendenza per far entrare Blanco e cambia uno degli avanti anche Cristofari facendo entrare Santi Rocco per Antichi al 22esimo Torrese vicino al raddoppio con un altro tiro cross quello di Selmanai la Vezzano torna a far fatica a costruire qualcosa di interessante così al 40esimo la Torrese chiude i conti con una bella combinazione sulla sinistra ed il cross di Mastrilli verso il centro area che Santi Rocco spinge in rete per il raddoppio dei padroni di casa la reazione degli ospiti di Nervi è in un tiro di Blanco che abbatta e para al 41esimo con successivo batte e ribatti che non vede il pallone però finire in rete nel recupero terzo gol della Torrese annullato per fuori gioco di Santi Rocco finisce con il successo importante per la formazione di Cristofari che si guadagna anche l'accesso matematico ai playoff e con la Vezzano che negli ultimi 180 minuti di campionato avrà come avversario solo se stesso era l'ultima notizia i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it l'informazione tornerà questa sera alle 19 grazie e buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti